Perché voti Felice Errante? Perché ha carisma, è l'immagine di una Castelvetrano giovane e in ascesa, una Castelvetrano che voglio, perché per me Felice Errante è già il mio sindaco. Perché a me ha trasmesso l'amore per la politica, perché penso che il suo progetto sia il nostro progetto, ovvero il progetto di tutti i castelvetranesi che tentano di rafforzare il rapporto con il loro territorio e quindi vogliono creare qui il proprio futuro. Voto Felice Errante perché è una persona vera e concreta, è l'unica alternativa per Castelvetrano, è una persona che non si mette in vendita e che non svende i propri valori, è una persona sempre aperta al dibattito e al confronto costruttivo. Perché mi ha dato l'opportunità di dire la mia sullo programma elettorale, si è sempre mostrato sensibile alle nostre iniziative e ha collaborato costantemente con noi giovani per sviluppare un programma concreto e che rispecchia le reali esigenze del territorio. Inoltre credo che rappresenta e mi rappresenta la Castelvetrano che voglio, giovane, equilibrata e dinamica. Perché è uno di noi, un cittadino tra i cittadini che si impegna per sostenere i valori di legalità e sviluppo e l'ho già fatto come assessore promuovendo il nostro territorio e i nostri prodotti nel mondo con iniziativa a costo zero. Lo vedo come un fratello maggiore con cui potersi confrontare per crescere insieme. E perché no, anche come un giovane uomo a cui potersi ispirare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.